L'eredità sperimentale piazzollana viene raccolta da questo spettacolo che è ricco di elementi innovativi. Sì, noi abbiamo ripreso l'idea originaria di Piazzolla, cioè il quintetto, e l'unica cosa che non ci abbiamo messo è il bandoneon. Sembra strano, però è una scelta stilistica che tende in un certo senso a portare avanti la ricerca di Piazzolla, con sempre gli stilemi tipici di Ubi Ensemble che sono la musica elettronica e la rilettura delle pagine a cui ci approcciamo. Quindi Piazzolla ci allontaniamo, da Piazzolla togliamo il bandoneon paradossalmente per riavvicinarci a Piazzolla, cioè la ricerca. Lui rivoluzionò il tango, con il quintetto noi rivoluzioniamo Piazzolla. Lui rivoluzionò il bandoneon paradossalmente per riavvicinarci a Piazzolla.